Cari amici, mi trovo con un carissimo amico che è Claudio Conterno, uno dei grandi produttori di Barolo e sono qui per chiedergli un consiglio, ma me ne ha già dati tanti lungo questi anni, quasi dieci anni di camminamento con la vina di Maria Chavez. Qual è il tuo consiglio adesso che ci troviamo così con una vigna, tu che vedo qui, splendida e la nostra che sta soffrendo? Cosa pensi? Penso che sicuramente abbiamo bisogno di acqua perché laggiù dopo dieci anni di promesse dobbiamo in qualche maniera risolvere quel problema. L'altro problema secondo me è di trovare anche dopo Aldo una persona giusta per fare quel che bisogna fare. Adesso bisogna avere l'acqua e avere la persona giusta, una ragazza giovane, un ragazzo giovane, qualcuno che abbia voglio di intraprendere quel cammino e cominciare cercando di avere l'acqua, ripeto, perché l'acqua purtroppo è un nutriente fondamentale per la pianta e sarebbe importante averla per qualche anno, invece non l'abbiamo mai avuto. Dopo magari la pianta raggiunge profondità ancora differente e soffrirà meno, ma per qualche anno bisogna averla, abbiamo sempre detto questo. Ma cosa consigli tu a Padre Ottavio di dialogo, come dialogare col governo per avere l'acqua? Abbiamo accettato tutte le strade. Sicuramente una vigna, un impegno, una vigna dura 70-80 anni, c'è una cosa che dura una vita, quindi bisogna mettere in pista tutte le cose che servono per portare a compimento questo progetto. Se non lo capisco non è buono, prova con... Se no intercedi presso la Santa Sede, presso uno Signore, digli qualcosa. Grazie amici che mi avete ascoltato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.